Bene Elisa da qui, da qui si scende delicati eh Sei sicuro? Sì al cento per cento si scende delicati Grazie William come ti ho insegnato grazie Ma perché solo io sono morto scusatemi Come funziona questa cosa? La testa, devi coprirsi la testa Senti coprimi le balle Ginger per favore dai una toccatina qua e là Porca miseria Cioè solo io ho dato una musata Con contenio Ginger mi raccomando Con contenio Ginger è inutile che guardi Eh Elisa tocca un po' E la botta in testa eh Ti do un calcio in testa E la botta in testa ho sbattuto Ma ciò che tocchiamo anche noi dici? Eh va bene proviamoci Grazie Ginger gentile Ok venite 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 Oh alla fine doveva fracassarsi Elisa Mi sono sfranto io su quello di scogli Com'è possibile?